ma cosa devo fare? ma devo fare quella? cosa devo dire? devi dire investite per il vostro futuro dai lo faccio io vieni perché investite per il vostro futuro fu come il lupo come fai il lupo? vai uno due bene 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 una buona giornata ben trovati quello di oggi è un grande appuntamento seguiteci tutti i giorni olio su tela chiamateci al telefono questi sono i momenti che contano grazie davvero questa è storia questi sono i giganti per questa trasmissione ecco perché vi dico non esitate guardate tutte le ore queste sono le opere che lasciano una traccia per vedere tutti questi bei quadri è una necessità canale sky 862 grazie chiudiamo su mattia dai salutiamo una buona vita a tutti una buona vita a tutti alla prossima investite per il vostro futuro seguiteci tutti i giorni a tutte le ore su tv app live vi aspettiamo una nuova un'enco Grazie a tutti.